Sappiamo che bere fa bene, ma hai mai pensato a quanta acqua consumi ogni giorno? No, non è solamente quella impiegata per cucinare o per lavarsi. Sai quant'acqua viene utilizzata per produrre i vestiti che indossi o il cibo che mangi? Tutti i prodotti hanno un'impronta idrica che dipende dall'acqua impiegata per la loro produzione. L'impronta idrica personale misura non solo l'acqua che consumi in casa, ma anche l'acqua necessaria per produrre ciò che mangi, l'energia che utilizzi, i vestiti che indossi e tutti i prodotti che acquisti. La nostra impronta idrica è molto alta. Adottando scelte migliori, puoi ridurre la tua impronta idrica per assicurare un uso sostenibile dell'acqua per noi e per le generazioni future. Grazie per la visione!